Si è tenuto ieri il consiglio di fabbrica dell'RSU e del gruppo Eni congiuntamente con le segreterie di Filctem Femca Wiltec per continuare a discutere della vertenza Gela. Le sigle sindacali continuano congiuntamente a monitorare la difficile situazione e contestano il contegno posto in essere dalla raffineria nel procedere in maniera unilaterale con un assetto organizzativo gestionale non condiviso tra le parti, così come scrivono i sindacalisti in un documento condiviso e dichiarano i nostri microfoni. Abbiamo fatto un consiglio di fabbrica alla luce di un'azione unilaterale fatta dall'azienda per quanto riguarda un assetto organizzativo che c'era posto a settembre di quest'anno dove noi avevamo delle perplessità su quello che era l'organizzazione presentata. Naturalmente noi dobbiamo essere un po' conseguenziali non per quanto riguarda l'assetto organizzativo ma soprattutto su quello che l'accordo stesso è. L'accordo prevedeva che c'erano nell'arco di tre anni, tre anni e mezzo, circa 2,2 miliardi che dovevano essere spesi sul territorio. Questi soldi dovevano avere una parte su quello che è l'investimento sia nell'esplorazione che nella parte della green refinery e su questo noi ci dobbiamo confrontare perché l'organizzazione del lavoro è importante non solo per la raffineria ma anche su Enimed e sulle altre società che sono nate come l'SCC e la Sindel che dovevano essere trasferite altri lavoratori nel complessivo. Quindi noi riteniamo che di pari passo devono camminare in una certa maniera gli investimenti e nell'altro senso avere in modo di fare delle organizzazioni dove noi dobbiamo fare assieme all'azienda con un accordo e non in maniera un'unità naturale come lei vorrebbe fare. Voi avete delle perplessità in realtà sul mantenimento dei livelli occupazionali? Non sono perplessità ma sono dati di fatto. Noi all'inizio di questa partita eravamo 1143 persone. Allo stato attuale sono andate via 600 unità quindi il numero si riduce perché è vero l'accordo prevedeva che dovevano essere 400 persone alla fine nella fiera ma tuttora le condizioni tecniche operative e gestionali non ci permettono di mantenere quel livello occupazionale che chiede l'azienda. Quindi noi vogliamo fare un confronto con l'azienda per verificare se ci sono le condizioni tecniche affinché si raggiunga quel numero 400. Che cosa si è inceppato nel meccanismo? Perché all'inizio era stato garantito, all'inizio di tutta questa trattativa, cioè quando si cominciò a parlare di trasformazione dello stabilimento in Green Raffinery, si parlò di mantenimento dei livelli occupazionali. Dove si è inceppata la macchina? Cosa non ha funzionato e cosa si deve fare immediatamente? Il tutto si è inceppato perché sostanzialmente, come diceva il collega, 2,2 miliardi di euro spesi sul territorio è una bella cifra. Fatta con un barile a quasi 100 dollari ha un senso e rappresenta anche per l'azienda un capitale di investimento. Fare un investimento con un barile a 38 dollari, questo comunque crea dei freni alla società per gli investimenti che deve fare. Ma dal punto di vista occupazionale dove si è inceppato? Si è inceppato perché ci sono stati dei ritardi dal punto di vista dell'apertura dei cantieri sia per quanto riguarda la realizzazione della Green Raffinery sia per quanto riguarda il progetto Argo Cassopea che è il progetto che c'è in esplorazione e perforazione. Stiamo tentando in tutti i modi possibili di far garantire quando prescritto nel protocollo. Se non dovesse essere così è sicuro che dovremmo passare a delle azioni di lotta dello stato di agitazione che in questo momento non è consigliabile perché già nel territorio di Gela c'è una tensione, c'è un clima altamente esplosivo. Lei giustamente parla facendo riferimento anche a concetti di macroeconomia con l'andamento del petrolio. Però come si fa a spiegare questa circostanza così lontana dalla vita quotidiana delle famiglie ad un operaio che da un giorno all'altro ha perso il lavoro? Questa situazione è una situazione davvero paradossale perché noi all'atto della firma del 6 novembre avevamo posto l'allarme che prima di iniziare con gli investimenti, prima di mettere in campo tutta la fase di progettazione. Sapendo che il 2015 a livello di apertura di candializzazione ce ne sarebbe stata pochissima, avevamo allertato sia il governo, sia il ministero del lavoro, sia la regione che la fase degli strumenti speciali, le leggi speciali che dovevano accompagnare in particolar modo i lavoratori dell'intotto dovevano essere pronti e disponibili. La realtà è invece che ci siamo trovati di fronte a tamponare giorno per giorno questa situazione senza una programmazione e senza una retribuzione certa per questi lavoratori.